Torniamo a parlare di libri anche in questo appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore. Oggi incontriamo un amico di San Giovanni Rotondo, un amico di Padre Pio TV. Ha cantato in grandi teatri, prendo spunto da quello che ha scritto lui. Piazze importanti, così come in chiesette di campagna e minuscoli centri sconosciuti al mondo. Ha cantato due volte anche a San Giovanni Rotondo. Non è stato mai interessato a mantenere un'immagine, un livello di pregio, un nome importante. Sono tutte cose sciocche per un frate. La cosa che ha cercato costantemente è l'incontro con gli altri. Siamo felicissimi di avere in collegamento Skype con noi da Sisi, frate Alessandro. Pace bene, benvenuto. Pace bene Paolo, un saluto di pace bene a tutti gli amici di Tele Radio Padre Pio. Grazie di cuore per essere con noi oggi. Parliamo del tuo libro, edito dalla San Paolo, intitolato La nostra voce, storia di un dono. Alla fine, frate Alessandro, hai messo nero su bianco. Hai deciso di raccontare la tua storia. E che storia? Sì, è stata una cosa che mi hanno chiesto di fare. Perché uno dei principi della nostra missione è quella di rispondere alle richieste. Non proponiamo mai di per sé. Per cui ci hanno fatto questa proposta, questa richiesta di scrivere la mia storia. Io sinceramente ero molto dubbioso su questo, perché è un po' un mostrarsi, è un esporsi, togliere quel velo che tutti abbiamo come diritto, cioè quello un po' della nostra privacy. Però ho confidato nel Signore nel fatto che la nostra storia, la mia storia con Dio, possa essere utile a qualcuno. E allora ho chiesto ai miei superiori, sono stati d'accordo. E è uscita fuori La nostra voce, questo libro. Ecco, La nostra voce, mi piace il titolo che hai scelto. Ed è da frate Alessandro questo titolo. Perché non è la mia voce, vi parlo di me, ma è la nostra voce. E che cosa c'è dietro a questa nostra? Allora, tutto nasce da una poesia che ho scritto molti anni fa, più di una decina d'anni fa. È una poesia dove riflettevo proprio sulla voce, su questo dono che il Signore fa a me, ma come lo fa a tanti altri. È una categoria anche biblica, se vogliamo, e anche molto legata anche al francescanesimo. Perché si parla dell'incarnazione del verbo, no? È una parola che si fa carne. Allora ho riflettuto sul valore del suono della voce. La mia voce è la mia storia, ma non è soltanto la mia. Incontra quella di Dio, la sua voce, che inizia ad entrare nella mia storia, dialoga con me e diventa una cosa sola. Si incarna di una storia, diventa la nostra voce. Questa poesia che avevo scritto al tempo mi ha ispirato per il titolo del libro. E ho sperato fino in fondo, e pare che sia così, che possa essere un'ispirazione per chi si accinge anche a leggerlo. Infatti è una poesia che incontriamo già nelle primissime pagine di questo libro, in cui appunto racconti te stesso dall'infanzia, quindi questo grande amore per la musica, ma anche amore per tutto ciò che è arte, che è creatività, l'amore e la passione per i libri, poi alla fine appunto ti sei ritrovato a scriverne uno. Il dono della voce, la vocazione, il convento, quindi la grande famiglia francescana. E poi, io ricordo quello che mi hai confessato quando sei venuto qui nostro ospite, io non mi piace riascoltarmi, non mi piace rivedermi, però comunque questo tuo dono, questa bellissima voce, ti ha portato poi davvero ad essere conosciuto in tutto il mondo e a registrare dei dischi per un'importantissima casa discografica. Quindi, come dire, per un francescano abituato a vivere nella tranquillità di un convento, beh, diventa una bella responsabilità. Dio parla anche in questo modo, e anzi forse parla proprio in questo modo, sconvolgendo i nostri piani. Io avevo un progetto di vivere proprio come un'erenita, di ritirarmi, di fare una vita molto semplice, di lavorare con le mie mani, mi piace moltissimo il restauro, il lavoro del legno, e di fare musica in modo semplice, ma mi sono ritrovato ad obbedire. L'obbedienza è la garanzia che Dio passa nella nostra storia, scrive con noi la nostra storia e ci guida. E questa obbedienza mi ha portato a questa missione che mi ha fatto uscire da me stesso, mi ha fatto uscire dai confini, mi ha fatto scoprire un altro lato del carisma francescano, che è quello dell'incontro, una pastorale allargata, una fraternità allargata, cosa che io fino a quel momento non avevo, sì, intuivo, ma non avevo contemplato per la mia vita. Scoprire che il Signore in questo modo mi ha fatto uscire da me stesso è stato bello, è stato bello perché è molto duro, molto difficile, sotto tanti aspetti, però ne vale sempre la pena. E ho capito che veramente il Signore tutte le cose belle le fa passare per la valle del pianto, che poi cambia in sorgente, come dice il Salmo. Mi piace anche il fatto che tu abbia scelto, in conclusione, di dedicare le pagine finali del tuo libro ad un progetto misterioso, così come lo hai lanciato sui tuoi social. Hai invitato gli amici che ti seguono su Facebook e anche altri social a lasciare le loro domande per te. Una sorta di intervista composta dalle tante domande dei tuoi seguaci, followers, come si dice in inglese. Anche questo, un lasciare spazio agli altri. Quindi ritorna i famosi incontri di cui parlavamo all'inizio, l'importanza dell'incontro con l'altro. Sì, ho cercato tutti i modi per poter stabilire una relazione, un contatto con loro, perché penso che sia proprio bello. In un certo senso non ho fatto altro che portare le dinamiche della mia fraternità, della nostra fraternità francescana nel mondo. E dunque utilizzando questi mezzi di comunicazione, noi cosa facciamo tra di noi? Cerchiamo di conoscerci, cerchiamo di conoscerci anche in punta di piedi, cerchiamo di entrare in relazione con l'altro. Allora ho dato questa possibilità con tanta gioia, fatemi le domande che volete e vediamo come posso rispondervi. Questa è stata un po' la sintesi di questo progetto e mi è piaciuto molto. Avrei voluto rispondere un po' a tutte le domande, ma purtroppo ne ho dovute scegliere solo alcune. Però come dici tu stesso, tante risposte si trovano nel libro che tu hai scritto. Non posso non chiederti, frate Alessandro, come la comunità di Assisi, a noi tanto cara, siamo gemellati con Assisi, padre Pio San Francesco, come dire, non possiamo far finta di niente, perché padre Pio è figlio di San Francesco. Come state vivendo questo momento, sia a livello di fraternità, ma anche il fatto che vi manchino, immagino, i tanti pellegrini e devoti che fino a qualche tempo fa venivano ad Assisi? Guarda, è un momento di grande equilibrio. Bisogna veramente trovare un equilibrio difficile. Assisi è fortemente colpita dal Covid, si sta pian piano rialzando, ma ha passato dei mesi molto, molto difficili. Dunque non è facile per noi, soprattutto per la nostra missione di voler incontrare le persone. Ci troviamo veramente in clausura, ma va bene, ci fa anche bene a certi aspetti. D'altra parte non possiamo dimenticare la nostra missione. La nostra missione è quella dell'incontro, per cui non possiamo totalmente chiuderci per paura, assolutamente no. Allora aumentiamo i sistemi di sicurezza, cerchiamo di adottare quanti più sistemi di sicurezza possibile, ma il santuario è aperto, sempre. La disponibilità dei frati c'è sempre. Qualsiasi persona che vuole venire è accolta. E questo l'abbiamo voluto mantenere. Non vogliamo essere schiavi della paura, perché confidiamo che il Signore ci aiuta anche in questo. E questa è una cosa molto bella. Vedi che Assisi, anche senza pellegrini, con una grave difficoltà che sta passando, nonostante questo, Assisi è ancora viva. Così immagino che sarà anche San Giovanni Rotondo e tutti i luoghi francescani che testimoniano la presenza di un Francesco che sconfigge la paura ed è capace anche di andare dai lebrosi senza paura. Per cui non vogliamo stare distanti dalla gente. Prendiamo più precauzioni, ma ci siamo. Molto bene, molto belle e confortanti queste tue parole, frate Alessandro. Posso chiederti qual è stato l'ultimo concerto che hai fatto prima che scoppiasse questa pandemia? L'ultimo concerto dal vivo che ho fatto prima della pandemia è stato un concerto sulla Quaresima, un concerto particolare. L'ho fatto qui a Gubbio, molto bello, con la partecipazione di Manuel Magrini che è il pianista che mi ha accompagnato al mio ultimo CD, Paese del Sole, dove canto canzoni italiane, una cosa un po' nuova diciamo, però in stile jazz. È un concerto che aveva come tema la Quaresima. Abbiamo preso brani quaresimali reinterpretati con uno stile nuovo jazz e impregnati di una spiritualità particolare, di molto meditativa. Guarda, il jazz può trarre in inganno. Se si ascolta questo tipo di diffusion, diciamo così, di questo mix che è venuto fuori, si capisce quanto Dio può parlare anche tramite questo genere di musica. Ed è stato molto, molto bello sentire come l'espressione di Manuel Magrini, di Elisa Bovi, che era il soprano che cantava con me, e di questi brani così belli, è riuscita a portare una preghiera, a consegnare al pubblico una preghiera profonda, nuova, vera e nutriente. Io la chiamerei così. È stata un'esperienza molto, molto bella. Ecco, diciamo che ho chiuso, prima della pandemia, con un concerto quaresimale. Io spero di poter riaprire il prima possibile cantando la risurrezione. E allora speriamo davvero di poterti riabbracciare qui a San Giovanni Rotondo, perché no, confidiamo nel Signore che possano esserci tante occasioni davvero per riascoltarti qui nella città di San Pio. Intanto ti ringraziamo, ricordo il titolo del tuo libro, edito dalla San Paolo, La nostra voce, storia di un dono, firmato, frate Alessandro Giacomo Brustenghi, ma anche senza secondo nome e cognome, frate Alessandro, la voce di Assisi, sei tu, non ce ne sono altri. Ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi, frate Alessandro, davvero un saluto di fraterno pace e bene, ti giunga ad Assisi. Grazie. Grazie Paola, grazie amici tutti, e pace bene a tutti dal cuore. Grazie a tutti.